Se arriviamo sotto l'aspetto dei risultati sicuramente molto bene, le due vittorie meritate ci hanno fatto bene, ci fanno bene e fanno bene a tutti. Sotto l'aspetto fisico abbiamo qualche problema e quindi non ho ancora bene le idee chiare su quello che sarà la squadra che domani affronterà le nate, sia come sistema di gioco sia come interno. Perché abbiamo un po' di influenzati e qualche fortunato.